Due anni fa, nel 2022, quasi all'unanimità il tappamento, un solo, io non ho conosciuto di un altro tanto, questa riforma, si introduce nell'articolo 9 la tutela della Repubblica, tutela l'ambiente, la diversità, gli ecosistemi, anche l'interesse delle generazioni future. Ed è bellissimo questo. Non solo perché ha detto la Repubblica, cioè l'insieme delle organizzazioni dello Stato, delle regioni, dei provinci, i comuni, le associazioni, le semplicità, chi compone la Repubblica tutela l'ambiente, 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 l'ambiente è il sistema complesso, dove c'è la tradizione che è la biodiversità culturale, la biodiversità non è solo naturale, ma c'è anche un'altra biodiversità, che è quella delle tradizioni, che sono identitari, fai che condividi, un diario, e adesso faccio un po' a me la partire da un giornale, perché è portato avanti un'identità culturale, che è vita di quello, perché non devevo dire.